La quinta giornata del Girone F di Serie D è più che dimezzata dopo l'impennata dei casi Covid nel torneo interregionale, sempre più a rischio anche in ottica recuperi e svolgimento delle giornate nelle date previste. Sono cinque i match che si disputeranno regolarmente domani. Atletico Terme Fiuggito Lentino, Castelfidardo, Castelnuovo Vomano, Città di Campobasso Matese, Monte Giorgio San Nicolò Notaresco e Olimpia Agnonese Vasto Girardi. Dunque sono solamente due le compagini abruzzese impegnate col notaresco, privo dello squalificato Dos Santos e che prova a mantenere la prima posizione in classifica, considerando che solo una delle due formazioni appaiate, cioè il Campobasso, giocherà regolarmente, mentre l'altra, la Re Canatese impegnata a Pineto, ha visto rinviato il suo match. Per gli uomini di Epifani trasferta nelle marche contro una squadra tanto fragile e lontano da casa quanto letale tra le muramiche, ma i rosso-blu hanno nella faretra gli uomini adatti anche per colpire in ripartenza. L'altra abruzzese che scenderà in campo, il Castelnuovo, sogna di continuare una marcia sorprendente, ma poi neppure troppo, proprio alle spalle del terzetto di testa. Il Castelfidardo, altra neopromossa come i neroverdi di Guido Di Fabio, ha fermato due settimane fa il Campobasso, ma finora non ha mostrato un ruolino irresistibile tutt'altro. Poi c'è tutta la questione riguardante i rinvii. All'11 novembre, ad esempio, Rietri Porto Santelpidio e Real Giulianova Cinzi Albalonga. La gara del Fadini non si disputa a causa della presenza di un positivo al Covid-19 fra le file dei laziali. Una settimana più tardi, invece, ci sarà il recupero di Aprilia Vastese, perché le condizioni di un tesserato bianco-rosso dopo i controlli effettuati in seguito ad un rialzo febbrile hanno dato esito positivo al tampone Covid-19. La società ha attivato immediatamente tutte le procedure previste dal protocollo in vigore ed ha informato l'ASL territoriale Lanciano-Vastochieti per attivare i passaggi necessari, con l'esecuzione di altri accertamenti e tamponi a giocatori e staff. L'attività sportiva degli aragonesi, intanto, è stata temporaneamente interrotta. Salterà anche Pinetore Canatese, che sarà recuperata il 4 di novembre, per le indicazioni provenienti dalle autorità sanitarie, a seguito della richiesta inoltrata dalla società Bianca Azzurra. Ultimo rinvio, che non riguarda però le squadre abruzzesi, è quello tra Rieti e Atletico Porto Sant'Elpidio, a seguito del primo tampone effettuato ad un tesserato a Maranto Celeste, nella giornata del 21 di ottobre. Nella giornata di giovedì, poi, è emerso anche un secondo calciatore positivo, ma asintomatico. Giornata dimezzata, come detto, e classifica che sarà inevitabilmente parziale. Infine, gli arbitri. Atletico Terme Fiuggi Tolentino è affidato a Cristian Robilotta di Sala Consilina, Castelfidardo Castelmuovo Momano a Francesco Loiodice di Collegno, Città di Campobasso Matese a Leonardo Mastro Domenico di Policoro, Monte Giorgio San Nicolò Notaresco a Flavio Fantozzi di Civitavecchia e Olimpia Nionese Vasto Girardi a Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata.